Allora, ciao a tutti gli amici di Gamesurf, io sono Simone Marcocchi, seguirò la recensione di King's Bounty 2 e in questo video vi farò vedere il gameplay, cosa vuol dire King's Bounty, come funziona, quali sono le logiche, come funziona in generale, eccetera eccetera una sorta di piccolo tutorial anche del gioco in sé ovviamente vi dico già prima, noi stiamo utilizzando la grafica al massimo in ultra qualsiasi cosa questa è la modalità di gioco che cambia anche come modo di gestire il personaggio che prima di entrare in combattimento gira tranquillamente in 3D all'interno del mondo di gioco qualcuno lo definisce open world, in realtà un po' è open world, in realtà è un open world furbo possiamo dire, dopo vi farò vedere perché, questa è la mappa, si può girare effettivamente in questo mondo però insomma è un modo di girare un po' diciamo così particolare allora, non vi dico nulla della storia, non vi dico, vi dico soltanto che siamo usciti da poco di prigione e ovviamente tutto ciò che vedrete da qui in poi è legato, ed è l'inizio del gioco è legato ovviamente ad una serie di evidenti e ovvi spoiler allora, che cos'è King's Bounty? allora, come vi dicevo ci sono una serie di combattimenti che poi tra un po' andremo a vedere nella fase operativa ma di fatto King's Bounty prevede che cosa? Un eroe? noi possiamo scegliere fra tre eroi e attualmente ho fatto alcune ore con un eroe di cui ho cancellato tutto adesso provo questo eroe e poi in realtà ce n'è un terzo questi due eroe che sto provando qua sono quelli che io in realtà non avrei mai scelto ma li voglio testare voglio avere toccare con mano cosa significa questo tipo di eroe e poi magari, che ne so, ricomincerò tutto con l'eroe che per me è sempre stato il più logico come scelta personale però a volte è bello anche capire come funzionano bene gli altri eroi l'eroe in King's Bounty tanto andiamo a prenderci il cavallo l'eroe in King's Bounty non ha un ruolo diretto o meglio, in parte sì questo personaggio che ho scelto io sicuramente anche gli altri ma diciamo che alcuni eroi, soprattutto questo, ha una efficacia diretta poi vi dico, vi spiego cosa vuol dire questa cosa con il campo di battaglia vero e proprio di fatto però l'eroe non ha una rilevanza effettiva esagerata sulla scacchiera del gioco ma sono le pedine chiamiamole pedine cioè questi cinque slot che vedete qua sotto sono personaggi che agiscono sul campo di battaglia al posto dell'eroe poi ripeto, quello che vi ho detto non è del tutto vero ma poi lo vedremo allora i tre personaggi, giusto perché così ne parliamo cosa sono, cosa fanno in generale e qual è il loro scopo adesso scusate che dobbiamo parlare con questo simpatico ragazzo saltiamo tutto, non me ne frega assolutamente nulla bravo e ci pigliamo il nostro ronzino allora voi di fatto appunto vi potete muovere in questo modo una volta preso il cavallo poi ci si può girare tranquillamente avete le vostre missioni principali o secondarie non ne abbiamo ancora di secondarie poi quando le troveremo le andremo ad aggiungere qua tra l'altro si è già sbloccato per ovvi motivi questa zona ok quindi noi potremo andare a richiamare e ritornare qui quando ci andrà di farlo questo per esempio per l'acquisto di determinate truppe per l'acquisto dopo lo vediamo insomma anche in altri momenti di evidenti cioè evidenti eventuali cose che ci possono interessare di fatto voi girate per la mappa adesso andremo a scontrarci sicuramente qua con con qualcuno questo si può assolutamente sovrascrivere non mi interessa salteremo tutto come vi dicevo e qua andremo a fare il nostro primo incontro allora vi dicevo dei tre personaggi velocemente qual è la loro funzione qual è il loro scopo come interagiscono all'interno del mondo di King's Bounty 2 primo personaggio non mi ricordo i nomi quindi vabbè il primo personaggio di fatto è un personaggio che ha grande forza è un grande leader quindi non è un bravissimo mago è un grande leader e di conseguenza da grossa una grossa come posso dire aiuta parecchio il morale dei suoi uomini proprio perché lui è un grande leader secondo personaggio questo che sto usando io è più una maga quindi lei utilizza magia di suo contro il nemico e poi ha una sua diciamo prerogativa influenza nei confronti di alcune truppe e poi l'ultima quella che ho utilizzato per qualche ora si chiama Elisa quello me lo ricordo il nome Elisa praticamente è un mix un po' di tutto e soprattutto tiene abbastanza adeso e unito il morale delle truppe anche se hanno diciamo un mix di di statistiche di comportamento non proprio omogeneo cosa vuol dire tutto questo lo vedremo più avanti non adesso così vi faccio vedere un pochino con calma allora qua noi ci troviamo in questa situazione non sempre ma nella maggior parte dei casi noi sappiamo che se attraversiamo l'area inizia il combattimento vedete che ci sono questi confini noi li attraversiamo accettiamo e inizia lo schieramento prima fase ci dobbiamo posizionare in modo tale da essere un po' più pratici nei confronti del nemico per esempio va bene così ci spostiamo ci mettiamo in questo modo possiamo tenerci così in questo caso non è che cambi tantissimo per esempio siamo in una posizione sopraelevata abbiamo degli arcieri abbiamo una situazione così a più un senso una volta fatto finito lì queste adesso arrivano si posizionano e buona lì allora abbiamo alcune cose che si possono fare vedete questo uno l'uno è la possibilità di usare un'abilità speciale del nostro della nostra squadriglia che praticamente dà un attacco in più ai nostri uomini chiamiamoli uomini quindi adesso noi lo sfrutteremo in questo caso è il sanguinamento vedete quindi sfruttiamo l'uno e andiamo ad attaccare direttamente i nostri lupi questo praticamente lo andremo quasi ad uccidere e questo ovviamente addirittura gli togliamo un elemento loro sono in due quindi uno lo uccidiamo di sicuro e l'altro gli lasciamo parecchi danni quindi li riduciamo in uno stato pietoso seconda possibilità vedete abbiamo l'uno anche questo che possiamo andare a sfruttare andiamo o ad uccidere direttamente i lupi ok oppure riduciamo quasi in fin di vita questo singolo lupo noi andiamo a fare questo in modo tale che noi abbiamo perché ha avuto senso questa cosa perché noi in questo modo abbiamo guadagnato un turno extra perché lo abbiamo guadagnato perché abbiamo ucciso un nemico il morale è salito e poi noi tra di noi c'è gioia ecco la faccina felice la faccina felice vuol dire che le truppe che noi abbiamo il tipo di attacco che noi abbiamo effettuato eccetera eccetera ci permette di avere dei bonus nel campo teniamo conto che faccine tristi all'interno della nostra squadra può portare a perdere addirittura dei turni tenete conto che perdere turni può voler dire perdere tutto cioè vuol dire che loro ci attaccano un po' di più e ci sfangano via e noi moriamo malissimo quindi attenzione al morale della nostra squadra perché se così non è noi rischiamo parecchio allora adesso ci attacca contrattacco e noi abbiamo finito finito la battaglia abbiamo vinto siamo stati bravi possiamo curare i nostri uomini non ce n'è bisogno perché in questo caso abbiamo vinto senza grosse perdite di sangue grosse perdite diciamo di vedete non abbiamo perso per esempio dati uomini o cose del genere quindi ci è andata bene e semplicemente ci guadagniamo questi trofei oltretutto non abbiamo nemmeno attaccato e guadagniamo anche un po' di mana quindi è andata la grandissima così funziona più o meno tanto per farvi capire il gioco ok quindi per potenziare lei il mio personaggio ha già imparato raggio di fuoco costo dell'incantesimo 2 per potenziarlo qua ci spiega cosa fare noi allora abbiamo due possibilità questo vale in generale con la magia o utilizziamo le pergamene le pergamene sono monouso ne incontriamo la marea in giro ma le pergamene sono monouso come i classici giochi peraltro di tutto ruolo le pergamene sono monouso imparare una magia ovviamente per sempre a patto di avere il mana il mana si conquista oppure si trovano dei punti in cui ricaricano il mana quindi anche la scelta di certe missioni è fondamentale anche per il discorso del mana io ad esempio delle zone qua intorno so già dove c'è del mana per ricaricare a se ha senso fare una cosa principale secondaria eccetera eccetera però tutto questo va un po' studiato sperimentato e capito ora salviamo sperimenteremo come ho già detto in alcuni casi perché conviene ecco altra cosa girate molto girate molto intorno alle varie zone perché c'è tantissimo oro tantissimi oggetti preziosi che poi appunto sono preziosi hanno un valore e conviene averli qua per esempio c'è braccio sinistro e qua c'è braccio destro e automaticamente vedete ci sono queste mini quest segreti cazzatine del genere se li fate si sblocca un segreto niente di che le quest cioè queste non sono queste secondarie ovviamente sono semplicemente cose che si trovano qua in giro però va girato tutto va girato tutto perché l'oro vedete deposito segreto e intanto prendiamo l'oro noi abbiamo visto che c'erano dei nani che ci cercavano e c'è una questa secondaria regata loro abbiamo una tonaca da studente vediamo se la tonaca da studente potenza magica o armatura influenza l'esercito vedete influenza sull'esercito attualmente lasciamo l'armatura non ha molto senso cambiarla sinceramente però vedete qua noi giriamo un po' qua ci dobbiamo andare dopo a prescindere quindi ce ne sbattiamo di andarci adesso poi vi dirò perché vedete l'oro c'è in ogni in ogni zona minuscola per quello che dicevo non conviene troppo girare a cavallo fino a che appunto non ne abbiate un'esigenza specifica adesso noi andiamo un attimino avanti ma giusto un attimo in modo tale da essere soddisfatti dall'aver girato qui ci sono questi simpatici io salto tutti i filmati ve lo dico subito non voglio farvi spoiler ok ok allora la nostra amica abbiamo detto ha già un punto talento da utilizzare il nostro punto talento da utilizzare noi adesso non lo usiamo assolutamente ok ecco se noi ad esempio tra un po' magari guadagneremo un altro punto talento facciamo salire aria e fuoco capite che gli incantesimi salgono parecchio allora andiamo a vedere intanto le possibilità che noi qua abbiamo abbiamo intorno allora ordine potere astuzia e anarchia queste possibilità qua sono da da star attenti diciamo perché innanzitutto influenzano i dialoghi cioè i punti e le situazioni scusate i punti che noi andiamo ad attribuire qua dentro influenzano quelli che sono i dialoghi che noi abbiamo con i personaggi che incontriamo perché per esempio in questo caso noi abbiamo tre d'astuzia quindi l'astuzia attualmente influenza parecchio i dialoghi che noi andremo ad affrontare poi vi dirò perché questa cosa cambia in che modo e poi noi possiamo assegnare dei talenti che innalzano o cambiano vanno a modificare pian piano questi questi risultati il nostro scopo vi dicevo è fare in modo tale che il nostro esercito sia sempre più facilitato e tendenzialmente deve essere gioioso di stare insieme perché è lì dove si guadagnano i bonus ed è lì dove fate effettivamente dove avete dei risultati cioè non è mettendo un personaggio forte ma magari che intristisce tutto l'esercito che fate la differenza quindi dovete stare molto attenti in che modo non potete come qualcuno vorrebbe o qualcuno penserebbe di fare metterci tutti i personaggi che ne so acquistate altre mute di cani altri adesso vi faccio vedere l'esercito che ne so voi dite qua io mi prendo 5 elementi dello stesso esercito certo funziona assolutamente potete comprarli io ho quasi 2000 monete d'oro lo posso fare fine il problema qual è che se fate questo tipo di scelta cioè il gioco vuole pretende che voi mescoliate l'esercito con altri elementi di che tipo per esempio i nani che andremo ad incontrare ci permetteranno di acquistare elementi cioè combattenti nanici per dire conviene mescolare gli eserciti dovrete farlo prima o poi quindi dovete mettere in conto che assegnare dei talenti qua che tendono a come dire a dar valore ad abbassare cioè a scusate ad abbassare i punti negativi o le incongruenze dell'esercito affinché loro stiano sempre bene insieme è fondamentale non potete farvi eserciti solo di che ne so dell'ordine perché perché così loro sono felici non potrete non supererete molti punti dovete mescolare questi questi elementi di cui vi parlavo quindi è molto importante studiare molto bene le situazioni in cui appunto voi andate a ad incrociare diciamo così i vostri nemici studiatele potete salvare potete vedere cosa succede eccetera qui ad esempio in questo punto qua c'è un punto con un mago andremo a vedere cosa succede possiamo affrontare questi golem o aiutare un mago e fargliela fare in un modo diverso è una possibilità adesso andremo a vederla adesso invece andiamo chiamiamo il cavallo ad aiutare in realtà forse avrebbe più senso partiamo da qua partiamo da qua farò anche le secondarie apposta in modo tale che così allora intanto andiamo prima di andare ad aiutare il nostro amichetto andiamo a rubacchiare qua intorno vedete quanto oro quanto oro si fa su e soprattutto quanto poi è rivendibile tutta tutta sta roba allora adesso andiamo andiamo dal mago salviamo adesso per adesso non abbiamo fatto nulla di particolarmente potenzialmente sbagliabile e quindi va bene registro missioni ecco vedete qua allora questo tipo di missione è quella di cui vi parlavo noi possiamo calmare i golem con l'aiuto del padrone o distruggere i golem dalla prigione e vedete che quello che noi andiamo a fare ha un una rilevanza in questo tipo di elemento noi siamo principalmente poi dell'astuzia quindi è ovvio che andremo a fare questo allora l'ho fatto al volo non c'ho neanche confesso letto allora facciamo ok ho tenuto punto sull'astuzia allora adesso noi possiamo andare ad incontrare la squadra di Ansel tra l'altro tanto per farvi capire la squadra di Ansel è la abbiamo bisogno di una scorta di fatto che ci porti al castello ora qua dietro vedete che c'è la fonte di mana la fonte di mana ci ricarica il mana gratuitamente cioè lo tocchiamo e ci ricarica il mana quindi è ovvio che noi non andiamo a usarlo perché il mana non l'abbiamo ancora utilizzato quindi anche in questo caso abbiamo risolto la nostra quest nel modo migliore quello che ci interessava noi e a questo punto andiamo avanti allora giusto anche qua per citare un'altra cosa noi adesso attualmente i punti talento non li stiamo ancora investendo perché perché attualmente se dovessi prendere unità vedete che ha appunto delle unità dell'astuzia ok il calo della morale perché viene combinato per esempio adesso mettiate che io becchi un mago ok se lo inserisco in una squadra che ne so dell'ordine ok automaticamente dell'ordine cosa significa giusto per spiegarvi un attimino cioè sì ad esempio vedete questi simboli qua appartengono a queste a questi tipi di di abilità ok attualmente vedete che l'esercito ha questo simbolo vuol dire che è felice se si trova con l'ordine ok se adesso io dovessi prendere un mago il mago ha l'astuzia ok quindi o comunque elementi diciamo magici hanno l'astuzia l'astuzia cosa vuol dire che se io lo inserisco all'interno di questo esercito questo esercito fa una faccia non proprio contrariata ma non felice ora investire un punto con il mago qua significa attenzione se noi ci mettiamo dentro il mago l'esercito non è più che si intristisce ecco come vi dicevo prima ora l'altra cosa che noi andremo a fare è se adesso prendo elementi di altri ordini di altri appunto elementi giocherò i miei primi punti in questo modo perché se no rischio di farmi degli eserciti cioè riesco a farmi degli eserciti un po' variegati ma nello stesso tempo senza appunto problemi di sorta adesso comunque è un esperimento insomma ve lo gioco giusto per farvi capire un po' come funziona noi saltiamo lui ci chiede una mano asce schegge qua per adesso non abbiamo fatto ancora nulla e andiamo avanti in questo modo ovviamente ci pigliamo la sua missione vedete intanto la mappa come si sta popolando le zone che ho trovato tra l'altro lui vi dice fonte di mana perché non l'abbiamo ancora usata altrimenti se noi questa la dovessimo usare sparisce però ci è utile perché così sappiamo che ci serve ricaricare il mana andiamo qua lo ricarichiamo e ce l'abbiamo easy ce ne sono un bel po' distribuite sulla mappa quindi cioè voglio dire ci sta tutto altra considerazione del gioco lui vi dice anche nel momento in cui che ne so passate vicino ad una zona che ha del denaro che trovate in giro un sacchetto di denaro una cosa del genere non lo prendete lui vi dice ma cazzo devi passaci perché c'è questo un obelisco del potere lo usiamo abbiamo ottenuto alle potenza magica quindi è comodo anche quello adesso vedete qua adesso lui ha già capito che c'è il personaggio qua davanti se dovessimo ripeto passare vicino a un sacchetto di denaro che non prendiamo lui ci dice sei un pirla non l'hai preso probabilmente ecco qua già vi farà vedere questa cosa vedete adesso noi l'abbiamo visto qua non lo prendiamo e secondo me se ci allontaniamo ci dirà guarda che c'era un sacchetto di denaro vediamo no però generalmente a me questa cosa capita e quindi non so probabilmente oltre una certa ah no perché non è un sacchetto di denaro è un libro ok quindi va bene va bene per la lore adesso noi come ho detto non stiamo a fossilizzarci su questo ci facciamo un bel giro nel campo di battaglia così magari vi faccio vedere sta cosa campo di battaglia in questo caso sarà appunto una battaglia qua vediamo se la nostra battaglia sarà fattibile con l'esercito con il numero di elementi che abbiamo o se dobbiamo invece andare a comprare altre altre pattuglie è una cosa che adesso sinceramente avevo fatto prima non me la ricordo ok abbiamo fatto il giro completo abbiamo tutto possiamo provare a vedere se riusciamo a farla si salva ok e possiamo iniziare ad andare come finirà questa storia cioè noi aiuteremo loro o i nani vi dico già che la scelta andrà a ricadere vedete attacca gli umani compiamo una scelta dell'ordine attacca i nani andiamo a compiere una scelta dell'anarchia noi però dobbiamo scegliere credo in automatico quindi sia che noi andiamo a scegliere di qua che di là io tendenzialmente andrei ad attaccare se loro non si offendono i nostri amici i nani allora noi in questo specifico caso siamo abbastanza sotto perché vedete loro non sono tra loro felicissimi però noi siamo abbastanza sul filo di rasoio della della nostra situazione la proviamo la proviamo nel caso acquistiamo altre truppe i soldi ne abbiamo torniamo indietro acquistiamo delle truppe poi torniamo la proviamo lo schieramento ovviamente è questo vuol dire che ce l'andiamo a posizionare un po' qua noi io sinceramente aspetterei qua con calma peraltro perché comunque è vero che i cani possono correre parecchio ma non possono correre così tanto quindi questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua aspettiamo loro sperando che attacchino e iniziamo possono correre tanto ok non mi ricordavo così tanto in più loro cioè tra l'altro questa scemata che ho fatto io mi è costata e vedete che un'unità mi sta anche per morire noi possiamo anche andare però a questo punto ad utilizzare questo raggio di fuoco ci costa due e lo possiamo fare vedete quanto effettivamente è efficace questa cosa quindi noi prima di tutto ricarichiamo perché ho sbagliato poi capiamo perché magari quello che io sto facendo con questo esercito qua non è abbastanza devo acquistare qualcun altro tenete conto che tra un po' ah è vero sto facendo una scemata perché adesso mi sto per unire all'esercito quindi ci potevo tornare ecco vedete ho già fatto io stavo già per fare una scemata enorme tra l'altro prendiamo il cavallo e adesso ci stiamo per unire all'esercito è inutile andarci con due gatti quando adesso stiamo per avere gli altri altri elementi utilissimi peraltro al nostro esercito quindi quindi andiamo ancora un attimo su di qua ci sono altre missioni secondarie poi ovviamente facciamo adesso vediamo il video se chiuderlo un po' prima un po' dopo così intanto vi faccio vedere un po' come funziona è ovvio che sapendo già anche quello che sta per succedere sono un attimino più preparato spesso vi dico in questo genere di giochi quando vi sembra che sia tutto un po' caotico ricominciate piuttosto qui c'è una città altre missioni secondarie che andremo a fare ecco questa è una cosa che purtroppo nel gioco capita continuamente e cioè un po' di casino lato generale eccolo qua perfetto noi adesso abbiamo il nostro esercito a cui si sono uniti altri elementi e di questi elementi noi possiamo andare ad acquistare dell'ordine tra l'altro possiamo andare anche ad acquistare qua intanto abbiamo trovato questo intanto andiamo a cercare se c'è possibilità di avere ed ecco qua che loro ci suggeriscono ci suggeriscono appunto altri elementi è ovvio che qual è la scelta migliore è un mix è una sorta di dobbiamo capirlo giocando noi non possiamo non avere e allora noi adesso abbiamo di fatto un'unità chiamiamola unità magica e il nostro personaggio tende a dare grande forza a questo tipologia di di elemento cioè appunto il mago quindi potrebbe essere una buona strategia avere un altro mago è ovvio che noi sbilanceremmo secondo me un po' tanto diciamo i nostri maghi ad averne troppi perché abbiamo poi tre elementi che hanno il solo come dire solo a distanza armi a distanza è un po' pericoloso i maghi sono effettivamente molto potenti questo è assolutamente fuori discussione però avere solo maghi i rischi sono abbastanza alti comunque due maghi con uno di questi i rischi ci possono essere la logica secondo me potrebbe diciamo essere quella di aggiungere altri lanceri in questo caso però appunto avendo tutto bilanciato tutto in generale e noi avendo maghi all'interno del nostro sistema io direi aggiungiamoci aggiungiamoci un bel mago non è abbastanza eccolo qua non è abbastanza abilità di comando per reclutare quindi noi in questo momento possiamo solo fare così adesso giusto per toglierci ogni dubbio ok noi adesso salviamo qua ripeto non abbiamo ancora potuto sbagliare neanche lontanamente nemmeno volendo quindi noi siamo felici ci spostiamo e andiamo adesso a chiamare il cavallo e ci andiamo ad affrontare la missione secondaria del dei nostri nani guardate il cavallo è una roba allucinante perché se voi dite io giro di qua cioè si capisce un cazzo allora farvi le missioni secondarie può avere senso è importante io di questa zona ho fatto tutte le missioni secondarie lo ritengo non solo importante lo ritengo addirittura fondamentale pensate un po perché comunque vi da oro l'oro non potete non averlo vi da potenziamento delle unità vi da tutta una serie di gestioni e cose assolutamente utili e assolutamente fondamentali ecco una cosa non per essere tedioso su questo prima vi ho fatto vedere l'unità felice che ottiene i bonus e vi ho anche detto avete visto che l'unità di fianco aveva la neutralità cioè secondo mio modo di vedere di giocare è sempre meglio cercare di ottenere sempre personaggi con la faccina sorridente proprio perché ottengono dei bonus per esempio avere un turno extra vuol dire è vitale avere personaggi neutri vuol dire non avere non guadagnare bonus e questo vi creerà ve lo dico prima secondo me problemi dopo quindi bisogna sempre stare un po' attenti un'altra caratteristica importante prima ve lo facevo vedere lato vestiario vedete che potremmo una volta preso un altro elemento un altro mago potenziare la potenza magica il mio personaggio è un mago avere questo tipo di abilità qua in più ci cambia assolutamente la vita ok torniamo per chiudere poi anche il discorso quindi salviamo anche qua per ovvi motivi andiamo dai nostri amici nani tra l'altro l'altra volta avevo fatto esattamente esattamente l'opposto e andiamo ad attaccare non mi ricordo se si prima erano tre anche loro e tre anche noi ora già cosa vedete da qua beh allora gli arcieri qui direi proprio di no e questo direi proprio di no gli arcieri in questa posizione direi pessima perché non hanno campo non vedono una mazzone e probabilmente non vedono nulla neanche troppo da qua però almeno c'è una logica non so se i cani riescono da ripeto ad arrivare fino qua però noi non sapendo né leggere né scrivere non mi ricordo se c'è questa possibilità io otterrei tutto per adesso così secondo me non riescono ad arrivarci però vediamo dobbiamo fare una prova vediamo esatto non ci arrivano e questo non ci arriva ok cosa che invece con un solo passaggio in più sarebbe stata ben più pericolosa a questo punto noi pigliamo subito l'unità di cani col sanguinamento e andiamo subito col sanguinamento su questo vorrego proprio attaccarli in questo modo no vabbè si facciamo che li facciamo sanguinare subito e li uccidiamo basta ok a questo punto vedete che questo ok può scegliere di usare la diciamo le frecce infuocate e hanno poi un cooldown io a questo punto siccome questo è un miliziano ah no è un arciere non cazzo invece allora lo andiamo gli andiamo a caccare un po' la minchia perché potrebbero umperci parecchio le palle però no per adesso per adesso no no anzi addirittura scelgo di fare questo gli infuoco i cani infuoco i cani perché voglio eliminarli il più velocemente possibile loro adesso aggiungono ardente quindi significa che sono costretti cioè bruciano e quindi adesso i cani io me li devo togliere il prima possibile perché loro quando sarà il loro momento verranno a rompere le palle ai miei elementi più deboli quindi arcieri ok quindi intanto questo ce li siamo levati dalle palle questo adesso proverà ad attaccare ah perché vuole torciere un deficiente perfetto allora questo abbiamo fatto bene a levarcelo dalle scatole allora questi ok adesso noi ovviamente loro verranno a mangiucchiare i miei comunque però intanto ho usato ho usato l'abilità di uccidi dell'uno e quindi praticamente loro sono mezzi morti anzi questa cosa li ha fatti fuori ora cosa succede leggendo quello che succede adesso sul campo di battaglia allora noi abbiamo tre cani e vedete che tre sono rappresentati da questi tre simboli in questo modo i nostri maghi possono curare i nostri cani perché se i nostri cani adesso venissero colpiti il rischio è di perdere un'unità ok dall'altra parte no basta questo vuol dire il concetto no volevo soltanto dire questo allora io adesso posso andare ad utilizzare il mana per andare a colpire il tizio qua sinceramente sinceramente al momento non lo faccio perché perché voglio che sia lui a venirmi a rompere le palle non io quindi addirittura posso fare t se faccio t rallento il turno in modo tale che posso farlo dopo quindi per adesso a me non interessa attaccarlo e aspettiamo mentre invece l'arciere certo con con tutta la calma del mondo via via colpisci colpisci e mi sposto qua perché il nostro amico che ormai conosco abbastanza può fare una corsa veloce e fare compiere un po' più di strada quindi meglio tutelarci posso dicevo in questo caso però in questo caso però per quanto colpirlo è una cosa intelligente infatti lo faccio perché vedete che la magia quanto fa di danno a lui sposto anche lui nelle retrovie la logica sarebbe stata di come vi dicevo di tutelare i miei cani ma non lo faccio perché secondo me adesso lui non riesce ancora ad arrivare qua quindi abbiamo un turno extra vedete guardate che figata quindi praticamente lo colpisco ancora e lui arriva già un po' provato vediamo se la cazzata che ho fatto mi fa perdere un'unità mi è andata di culo mi è andata di culo perché ho rischiato di perdere un'unità ma non l'ho persa e a questo punto lo vado a far fuori dritto sparato e tra l'altro non dovrei perdere nessuno perfetto vittoria pulita non ho perso elementi e lui automaticamente oltre a guadagnare punti esperienza non devo neanche pagare per ripristinare le mie unità come vi dicevo se perdo le unità poi non le recupero e quindi insomma diventa un po' un po' un pasticcio noi chiudiamo questi sono i trofei abbiamo guadagnato del denaro abbiamo guadagnato del mana e la chiudiamo così adesso loro ci daranno un dialogo adesso scusate lo leggo perché io l'altra volta ho fatto un'altra cosa e ho ottenuto un punto di anarchia ok 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 vedete che possiamo reclutare i nostri amici banditi i nostri amici banditi ci possono creare ovviamente vediamo non sono male per niente non li ho mai usati in questa in questa in questa sezione sì per adesso però non prendo nessuno prendo in compenso il cavallo e voglio andare a vedere dove andavo invece prima come ho già detto vediamo qua cosa succede voglio vedere perché l'altra volta aiutando invece i nani qua c'era una zona non so se qua ci sono allo stile o meno ah ok perfetto questo è una visuale del gioco dall'alto adesso vi porto a un'altra quest secondaria intanto vediamo se sono salito di livello o meno no no perché evidentemente ah intanto abbiamo guadagnato anche ma io in realtà vi dirò che vabbè prof l'armatura protegge un po' tutti eh no voglio andare sull'armatura il cavallo nelle zone strattè è davvero davvero mortale è ovvio che tutto è una questione anche di economia economia vuol dire il mana per esempio vuol dire che potete scegliere di non usare il mana e di sapere dove andare a recuperarlo perché a voi magari quella tal missione non lo usate ma se vi può servire è ovvio che avete un risultato completamente diverso quindi ci sta tutta allora qua intanto vi porto in una nuova mini cioè mini in una nuova zona che ha una relativa a questo un po' particolare che prevede di aiutare una persona ci facciamo questa non ci faremo proprio tutto fino al combattimento ma tanto ve la faccio vedere difficile non trovare ah questo mi sembrava aperta ecco qua secondo me vedete che adesso questo qua dietro è dell'oro vedete che qua vi dice eccolo qua vedete siamo passati ma non hai preso dell'oro pigliate sto oro ti dice pigliate sto oro e basta perché ok il resto fa parte della quest intanto siamo già a un'ora quindi vabbè allora allora ho fatto tac 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 adesso proviamo 1 2 3 e adesso facciamo 1 2 3 e adesso facciamo 1 2 3 e adesso facciamo 1 2 3 forse l'avevo già fatto quando sono 3 non è che dovete stare troppo a ragionare cioè c'era una spiegazione ma sinceramente mi sembrano tutti uguali magari c'era una logica ma io sono furbissimo sono andato qua e sono andato dritto dritto per dritto allora c'è il nostro amico che ci chiede aiuto noi andiamo qua cazzo spero di aver salvato ok lui adesso ci dice ah dobbiamo fare due cose allora intanto lui è sopra questa torre il nostro amico e noi intanto andiamo qua ci interessa loro cos'è il cristallo del fulcro andiamo a vedere cos'è ok niente di utile ok 1 2 2 là in fondo c'è una anche qua 2 vediamo se c'è altra roba qua qua non ce l'ho mai stato credo ah beh abbiamo una cintura di corda cioè sicuramente la vita ci migliorerà tantissimo con la cintura di corda sicuramente saremo al top secondo me è qua shop no ne perdo sempre una allora andiamo giù allora questo l'abbiamo fatta ah no era qua dietro perfetto ah il nostro amico berengar è qui adesso noi salviamo e lui ci dice che abbiamo fatto quindi qua e qui salviamo iniziano un po' i guai perché dobbiamo affrontare dei nuovi nemici gli scheletri i ghoul e un po' di robe misto varie adesso andiamo a vedere siamo ancora abbastanza in vantaggio noi però loro sono felici e quindi vuol dire essere comunque avere dei turni extra anche loro insomma è una situazione che inizia a diventare un pochino più complicata bene questo è il gioco così dovete ve la dovete ve la dovete giocare missioni principali missioni secondarie poi ne parleremo della coesione con le missioni principali e secondarie all'interno del gioco della recensione scusate in sé al momento ho ottime impressioni il gioco non è estremamente complicato ma vi punisce se sbagliate se non capite le logiche che vi ho mostrato io fino adesso quindi è importantissimo conoscere capire studiare il piano di battaglia scusate il piano di gioco i personaggi la loro gioia e i potenziamenti relativi al vostro personaggio ma anche all'eventuale esercito all'interno del quale poi svolgere la vostra avventura io vi ringrazio spero di avervi dato qualche dritta all'interno di questo gioco al prossimo video e ciao ciao